Mi trovo nelle belle sale storiche della Biblioteca Gambalunga di Rimini, la prima biblioteca civica italiana nata all'inizio del 1600 dall'idea lungimirante e geniale di Alessandro Gambalunga, un riminese che aveva maturato una tale profonda convinzione del valore della cultura per il bene delle persone e della comunità da farne dono alla sua città a vantaggio delle generazioni future. Questa biblioteca è dunque una delle testimonianze della nostra storia millenaria che è fatta anche di momenti di grande eccellenza come questo, ed è a partire dalla consapevolezza di questa importante eredità culturale che vogliamo trasmettere alle future generazioni innestandola di nuovi contenuti creativi che con molta determinazione e voglia di vincere, Rimini si candida a capitale della cultura per il 2026. Per questo cerchiamo tre talenti nel settore dell'heritage, dello spettacolo e della scienza che lavorino con noi per creare delle proposte fortemente innovative. Sarà un percorso entusiasmante di valorizzazione dell'esistente e di invenzione del futuro, quindi candidatevi, vi aspettiamo per fare questo percorso insieme.